Grazie, buon pomeriggio a tutti, io sono Chiara, vi parlerò di quella parola che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, ma magari no, e cercherò di farvi capire che cos'è nel modo più semplice possibile, crowdfunding. Scusate, prevedevo questo momento ed è il panico, me la governate voi? Ok, andate su home, schermo intero, ok, scusate, yes, ok, questa è la definizione strettamente di Wikipedia, diciamo che tecnicamente il crowdfunding è un sistema di microcredito, cioè voi avete un'idea e potete raccogliere i soldi per realizzarla non in grosse cifre, banche o istituzioni, ma semplicemente facendo appello alla colletta e fondamentalmente all'aiuto di tutti. È una parola composta, non ha intenzione di funzionare, non c'è verso, scusate, ok. Ok, io nel frattempo continuo. È una parola composta da due parole, crowd, la massa, le persone e funding, che è il finanziamento, ovviamente i soldi. Andiamo avanti. Esistono circa 400 piattaforme di crowdfunding nel mondo, non è un fenomeno soltanto italiano ovviamente, e fondamentalmente si dividono in tre modelli. Il primo modello è il modello cosiddetto reward based, cioè si basa, lo scambio si basa sulla corrisponzione di una ricompensa. La donazione che si fa è a tutti gli effetti una donazione libera, a cui in cambio il progettista, colui che ha avuto l'idea, fa corrispondere un prodotto o un'emozione, un'esperienza collegata all'idea che lui sta cercando di portare avanti. Il secondo modello è il cosiddetto equity based e corrisponde tecnicamente a un investimento vero e proprio. Io ti do una piccola cifra, investo su di te e un domani se la tua azienda funzionerà avrò in cambio un ritorno sull'utile. Il terzo modello è il cosiddetto social lending, cioè tecnicamente un vero e proprio prestito, che consente poi al progettista di restituire la cifra che ha avuto dalla massa delle persone con un tasso particolarmente agevolato. Io vi parlo del reward based, che è quello che in questo momento stiamo cercando di fare in Italia. Fondamentalmente si colloca all'intersezione di queste tre buone pratiche. La prima, la storia. Per creare un progetto di crowdfunding bisogna principalmente raccontare una storia, una storia che appassioni le persone. La si può raccontare, se andiamo avanti, grazie, con due mezzi, un testo e un video. Due parole velocissime, il testo deve essere il più possibile coinvolgente, il crowdfunding è fatto di persone che parlano ad altre persone, come io sto parlando a voi. Quindi se io vi racconto la mia idea, per prima cosa devo cercare di appassionarvi, devo essere trasparente, cioè devo spiegare come userò i fondi e magari devo cercare di dirvi grazie, una cosa che non è banale perché molti progettisti si scordano di farlo. L'altro aspetto è il video, il video che può essere fatto nel modo più semplice possibile, anzi meno business è, meno uno ci ha speso, se uno ci ha speso anche zero e si è messo di fronte a una webcam e si è raccontato è anche meglio. L'importante è far vedere il prodotto, l'idea di cui si sta parlando, metterci la faccia e anche lì raccontare la propria storia. Il secondo punto è lo scambio per l'appunto, le ricompense. Vi dicevo, un prodotto o un'emozione? Che cosa vuol dire? Facciamo l'esempio di una compagnia teatrale sul territorio che vuole produrre il proprio spettacolo e ha bisogno di 5.000 euro. Può dare in cambio come ricompensa sia un biglietto per andare a vedere lo spettacolo, ovviamente, sia far vedere lo spettacolo dietro le quinte, una cosa che uno spettatore comune non potrebbe comprare e se ha un vero appassionato in questo modo può sapere di sostenere quella compagnia prima ancora che realizzi lo spettacolo e di avere in cambio un dono unico. Oppure addirittura chissà di andare a cena con la troupe, per esempio. Terzo punto, fondamentale, è la cooperazione. Fabio ci ha parlato benissimo del networking online, offline. L'idea è che tu sei il primo ambasciatore della tua idea e chiunque ti sostenga ti può venire dietro, può parlare di te e può fare da eco e amplificare la tua idea. Può e lo deve fare perché ti darà una mano esattamente come se ti desse dei soldi e se ti dà anche i soldi è meglio. Quindi questo è la generazione di valore, è un prodotto, un qualsiasi prodotto, culturale, imprenditoriale, che trova la sua strada grazie al potere della community e come vedete non genera soltanto del finanziamento ma genera soprattutto fiducia, coinvolgimento, partecipazione ed emozioni. È così che si crea il senso di una comunità e la si dirige a partecipare, a lavorare insieme al creatore, a un progetto creativo. Chiudo raccontandovi molto velocemente due storie. La prima, Chiara. Chiara è una designer, è una grafica, lei chiedeva 5.000 euro, andiamo avanti, per realizzare la sua idea. La caratteristica è che lei è una designer vegana, disegna magliette a tema vegano, lei lavorava per un datore di lavoro, faceva la grafica alla videomaker a tempo perso, che lei ha rappresentato così, un job monster, perché ha detto che quelle sono le anime di dei dipendenti che lui sfruttava e a un certo punto ha deciso, chi se ne frega, mi voglio mettere da sola, fa queste magliette in cotone ecocompatibile, lavorato insomma con principi etici e ci abbina, tutto lavorato con inchiostri anche, quindi che non deturpano l'ambiente e ci abbina a un messaggio che è un messaggio vegan. Questo è uno dei tanti disegni tra il grottesco e il divertente che lei realizza. Lei ha raccolto 5.000 euro e lei ha saputo fare benissimo community, i vegani non sono molti in Italia, non sono molti neanche nel mondo in realtà e hanno una rete di relazioni molto forti, per cui lei sfruttando il passaparola tra i blog chiedeva semplicemente dei fondi per poter crearsi un piccolo shop online e far diventare quella che è sempre stata una passione, una fuga dallo sfruttamento del lavoro che lei subiva e una nuova opportunità di fare una piccolissima impresa e ce l'ha fatta. Il secondo è un progetto che è attualmente in finanziamento, che è Fattelo, 1840 euro raccolti in realtà siamo a 2.200 stamani sui 5.000, manca ancora quasi un mese, andiamo avanti. Loro sono Federico, Mattia, Antonio e Daniele, designer, comunicatori, grafici, hanno creato questo progetto che adesso vi faccio vedere, è una lampada che si chiama Fattelo. Qual è il principio? Anzi, Fattelo è il progetto, la lampada si chiama 01. Qual è il principio? Questa è una lampada open source. Che cosa vuol dire? Che voi potete andare sul sito, scaricare questa fustella, non ve la posso far vedere tutta aperta, prendere un cartone a casa che vi avanza, il cartone della pizza, siete stati all'Ikea, avete comprato una sedia, quello che volete, ritagliarlo seguendo questo disegno e realizzare fisicamente questa lampada, andando poi semplicemente a comprare un piccolo led e un cavo e agganciarla. Io vi faccio anche vedere che funziona, perché sennò non ci si crede, l'importante, mi hanno detto, raccomandati di dire che la lampada non deve essere incandescenza, perché sennò il problema si crea, quindi se volete potete andare sul loro sito e scaricarla e farvela da soli, altrimenti loro come questa ve la forniscono, ve la realizzano loro. Il loro obiettivo è di raccogliere 5.000 euro per aprire la loro impresa, tutti e 4 hanno un altro lavoro, ma questo è il loro sogno, hanno altri progetti nel cassetto, il principio è che è ecologica, che è riciclabile, che ci puoi fare quello che vuoi. Ho un amico che mi ha detto me la farò tutta disegnare dalla mia bambina e poi me la metterò in ufficio e sarà unica e fatta in quel modo ce l'avrò soltanto io, questo è il loro sogno e questo è il sogno che noi stiamo cercando di raccontare grazie a loro. Concludo velocissimamente perché so di aver perso il tempo dicendo una cosa, il crowdfunding non è la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno, diffidate di chi vi dice questo. Mi piace più pensare che il crowdfunding sia una bacchetta magica, chi ha letto un po' di Harry Potter sa che la bacchetta magica è potente quanto è potente il mago che la sa usare. Qualcuno, Sannino, prima ha detto che in Italia ci sono più soldi che buone idee ma forse nel mondo, perfetto, se volete dimostrare che nel mondo ci sono più soldi che buone idee e queste idee, le idee di Eppela, del mio progetto e delle altre piattaforme di crowdfunding vi piacciono, andate a casa, condividete idee, andatevi a guardare i progetti, sceglietene uno, sceglietene più d'uno e sostenetelo, solo così questo metodo si affermerà. Grazie. Grazie.